Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta alle ciliegie. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 50 minuti. Gli ingredienti sono mandorle, burro, zucchero, uova, farina, lievito, maraschino e ciliegie snocciolate. Iniziamo la preparazione della ricetta. Mettiamo nel boccale le mandorle. 10 secondi. 10 secondi. Velocità 10. Togliere le mandorle da boccale e metterle da parte. Uniamo il burro. E lo zucchero. Un minuto. Velocità 3. Aggiungiamo le mandorle messe da parte. Chiudiamo. 30 secondi. A velocità 4. Uniamo le uova. Uniamo le uova. Un minuto. Velocità 4. Adesso aggiungiamo la farina, il lievito e il liquore. Chiudiamo. sempre un minuto. Velocità 4. Velocità 4. Bene. Adesso verseremo il composto in uno stampo. Adesso andiamo a infornare, a forno statico, a 180 gradi, per 45 minuti. La torta adesso è pronta. Andiamo a impiattarla e a spolverizzarla con lo zucchero a velo. Torta alle ciliegie. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.